ben trovati ad un nuovo video tutorial dedicato ad adobe audition continua il corso di audition per voi che siete abbonati a questo canale youtube parliamo e continuiamo a parlare di audition trattando l'argomento effetti perché se è vero che audition può essere utilizzato per tantissimi scopi differenti uno tra tutti il missaggio audio di una produzione video è anche vero che audition è molto utile per aggiungere effetti interessanti al nostro suono per migliorarne la qualità per migliorarne i volumi come abbiamo già detto audition può essere usato in due modalità la modalità a sessione quindi multitraccia quando dobbiamo fare un missaggio completo di più tracce e di questo parleremo più avanti e a traccia singola quindi per editare un singolo suono oggi vedremo quali effetti abbiamo a nostra disposizione per lavorare sul quello che viene volgarmente chiamato volume ovvero l'ampiezza e le dinamiche di un suono iniziamo subito registrando un suono potete anche importarlo noi però facciamo una registrazione molto veloce della mia voce cliccando sul bottoncino qui in basso rec e vediamo 123 prova microfono 456789 e 10 123456 ecco come vedete ho utilizzato una dinamica parlando un po più alto proprio basso e iniziamo a vedere quali effetti abbiamo a nostra disposizione per lavorare sul volgarmente detto volume intanto andiamo nel menu effetti e come potete notare c'è tutta una sezione dedicata a varie tipologie di effetti a cui possiamo accedere in adobe audition la prima sezione è chiamata ampiezza e compressione e qui abbiamo tutta una serie di strumenti e di effetti proprio per lavorare su questo aspetto del suono il primo amplifica è quello che noi potremmo veramente definire volgarmente il volume in altre parole alziamo e abbassiamo il volume possiamo decidere di quanti decibel aumentare il volume cliccando con il tasto sinistro e trascinando questa manopolina sul numero ok oppure possiamo impostare direttamente noi un valore per esempio 6 db oppure possiamo muovere questo questo controllo a destra o a sinistra per aumentare o diminuire ovviamente i segni col meno diminuiscono un suono di un tot numero di decibel decibel diamo per esempio un incremento di 3 decibel al nostro suono guardate un attimino questo questo valore che è il picco clicchiamo su applica e vedete che il valore di picco il valore l'ampiezza il volume di tutta l'onda è stata aumentata di 3 decibel contro z per tornare indietro vedete che la forma d'onda è tornata alla sua dimensione originale torniamo ancora su effetti ampiezza proviamo a dare un valore negativo per esempio meno 12 db ok clicchiamo su applica e tutta l'onda è diminuita di 12 decibel di intensità ovviamente quello che stiamo facendo tiene conto di tutto quello che abbiamo già raccontato nelle lezioni precedenti è quindi se volete applicare un effetto solo a una porzione di onda potete selezionarla e applicare l'effetto in questo caso l'ampiezza solo ad una porzione di onda per quanto riguarda questo effetto l'ampiezza non dimenticate questo controller rapido che abbiamo a nostra disposizione ovvero per modificare il volume di un suono non dovete per forza andare nel menu effetti potete anche banalmente utilizzare questo strumento per aumentare o per diminuire il volume del nostro del nostro materiale sonoro anche qui basta selezionare una porzione sola della forma sonora per aumentare o diminuire solo una porzione una parte del nostro materiale andiamo avanti con altri effetti audio che abbiamo a nostra disposizione abbiamo il mixer dei canali sarò molto rapido in realtà su questo effetto perché c'è in questo momento poco da dire questo è un effetto che può essere molto utile per lavorare sull'intensità sonora dei canali che hanno dei file audio del materiale sonoro che ha più canali per esempio avete un canale sinistro un canale destro e volete aumentare il volume del canale destro o del canale sinistro e con questo effetto potete farlo questo è un effetto che è molto utile anche per lavorare sulle forme d'onda che vanno in controfase se sapete già cos'è una controfase potete capire bene cosa può fare questo strumento e perché è così importante conoscerlo ma ci torneremo nello specifico perché appunto è importante e merita una lezione a parte il dsr è uno strumento che ci aiuta a rimuovere le s non vi mostro come funziona perché in realtà è veramente molto semplice e intuitivo basta scegliere un preset cliccare su applica e le s di una conversazione vengono automaticamente mitigate e migliorate andiamo avanti a un altro effetto disponibile in questa sezione è quella o meglio un'altra serie di effetti disponibili su questa in questa sezione molto interessanti sono quelli relativi alle dinamiche cos'è la dinamica bella dinamica di un suono non è altro che la differenza che c'è tra il suono più silenzioso e il suono più voluminoso più potente più ad alto livello di decibel la dinamica in altre parole non è altro che quella è la varietà ecco di pressione sonora che può avere un audio no se avete un audio dove ci sono dei suoni molto forti molto rumorosi e dei suoni molto bassi e molto silenziosi ecco possiamo definire che quello è un suono con una grande dinamica no ovvero con tante differenze tra momenti in cui il suono ha un volume molto alto e i momenti in cui il suono ha un volume molto basso ecco con questi strumenti per la compressione la limitazione limiter e la dinamica in generale possiamo intervenire proprio su 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 questo facciamo un esempio ma andiamo in play 1 2 3 4 5 6 1 2 3 prova microfono 4 5 6 7 8 9 e 10 1 2 3 ecco vedete che questo mio parlato ha dei livelli molto diversi no il mio suono può essere molto basso oppure può essere molto alto con questo strumento ne possiamo ad applicare una una compressione cioè cerchiamo di fare in modo che i suoni più alti di una certa soglia vengono automaticamente abbassati guardate 4 5 6 1 2 3 prova microfono 4 5 6 7 8 9 e 10 mettete che adesso tutto il mio suono a prescindere dal volume originale modula più o meno intorno ai meno 15 db a prescindere se parlavo pianissimo come qui o parlavo fortissimo come qui il suono più o meno viene appiattito quindi la dinamica viene quasi azzerata intorno a meno 15 db guardate 1 2 3 4 5 6 1 2 3 prova microfono 4 vedete siamo più o meno intorno ai meno 15 e meno 15 db chiaramente ho questo esagerando e sto applicando un compressore molto molto spinto quindi un compressore che va a ridurre ecco la dinamica questo può essere un effetto chiaramente da utilizzare con molta parsimonia se si lavora per esempio su una musica da discoteca questo effetto viene spesso utilizzato per dare quel senso di di compressione e di spinta tipico in molti brani dance ed elettronici no in un parlato un compressore può essere utile per dare una voce un po più pastosa un po più uniforme ecco se stai facendo uno speech per esempio un compressore leggero può essere molto utile per dare un suono un pochettino più omogeneo ad una voce per esempio che sta parlando io stesso ecco questa voce che state sentendo in questo momento la mia voce è stata leggermente compressa per avere più o meno un'intensità una pressione sonora più o meno costante ecco questa è la dinamica e questo strumento questo effetto all'effetto dinamica ci permette di lavorare proprio su questo e in particolar modo ci permette di lavorare sul compressore come in questo caso sul controllo del gate automatico il controllo del gate automatico fa sì che per esempio i suoni troppo bassi tipo i rumori di fondo per esempio il rumore di un'aria condizionata di una ventola vengono automaticamente eliminati no è un po un modo per pulire un audio che per esempio ha in sottofondo qualche rumore che non vogliamo sentire si utilizza tantissimo nelle trasmissioni per esempio televisive dove magari in studio c'è l'aria condizionata e per togliere il rumore dell'aria condizionata i fonici utilizzano questo strumento un gate un controllo di gate per rimuovere appunto questi rumori bassissimi e per far sentire solo la voce piena di chi sta parlando facciamo un esempio applicato alla mia voce vi faccio ascoltare questo pezzettino qui dove ci sono dei momenti in cui parlo e dei momenti in cui sto in silenzio fate caso adesso al rumore che potete ascoltare quando c'è silenzio 9 e 10 1 2 3 9 e 10 1 2 3 vi faccio sentire il rumore di cui sto parlando sentite questo è un rumore applicando questo effetto di gate questo rumore viene eliminato o viene mitigato aumento la soglia ok ora non c'è più però la mia voce continuerà ad esserci ascoltate 1 2 3 prova microfono 4 5 6 7 8 9 e 10 1 2 3 4 5 6 avete sentito in questo senso il gate può essere molto utile i valori da impostare per quanto riguarda il controllo automatico principalmente sono la soglia ovvero sotto quale livello 10 bel volete che i suoni vengano rimossi l'attacco ovvero quanto rapidamente volete che questo effetto entri in funzione e il rilascio ovvero quanto rapidamente volete che l'effetto venga venga rilasciato il compressore lo abbiamo visto prima è quella parte della dinamica che ci permette di comprimere i suoni l'espansore invece fa esattamente il contrario del compressore vale a dire alza tutti i suoni più bassi di una certa soglia per esempio qui se l'espansore venisse impostato a meno 20 decibel non interviene sui suoni più forti di 20 meno 20 decibel mentre i suoni più bassi di meno 20 decibel li alza automaticamente poi c'è infine il limitatore invece che non fa altro che limitare il volume ad una soglia da noi scelta meno 1 per esempio fa in modo che tutti i suoni più alti di meno 1 decibel vengano automaticamente abbassati e portati a meno un decibel ora io mi rendo conto che l'argomento è molto complesso sicuramente non possiamo esaurirlo in una singola lezione quello che però a voi è utile sapere che tutte queste questi concetti che poi non sono specifici di audition ma sono proprio specifici dell'ingegneria del suono del dell'audio in generale li trovate sotto la voce ampiezza e compressione di audition noi abbiamo visto adesso il concetto di dinamiche poi abbiamo l'elaborazione delle dinamiche che è molto simile agli strumenti che abbiamo visto prima solo che vengono presentati in una maniera leggermente differente abbiamo poi ancora l'inviluppo dissolvenza e l'inviluppo del guadagno sono due strumenti utili per modificare il volume nel tempo per esempio utilizziamo l'inviluppo del guadagno ecco cliccando su questo effetto vedete che abbiamo una linea ok potete già immaginare cosa fa questa linea ovvero quando il volume scende quando la linea gialla scende il volume si abbassa quando questa linea gialla risale il volume si alza quindi se volete alzare e abbassare il volume di di un audio in maniera dinamica e soprattutto nel tempo potete utilizzare questo effetto e disegnare la vostra curva per esempio ecco quello che fa questo questo effetto oppla questo effetto disegnando una curva simile a questa guardiamo ok il suono verrà azzerato il volume meglio ancora verrà azzerato per poi essere rialzato abbassato un altro po e sparato ad un volume ancora più alto sulla fine ascoltate 2 6 7 8 9 e 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 prova 5 6 questo è quello che fa l'effetto inviluppo un altro effetto utile da conoscere è il limitatore ne abbiamo già parlato prima il limitatore non fa altro che abbassare limitare l'audio più alto di una certa soglia è molto utile se non vogliamo se vogliamo evitare che l'audio raggiunga una una soglia da una stabilità in questo caso almeno 0,1 decibel ancora abbiamo tutti i compressori il compressore multibanda il compressore a banda singola sono due strumenti molto utili per comprimere il suono scegliendo e lavorando al livello delle frequenze abbiamo la normalizzazione ne parleremo magari in un tutorial a parte sul concetto di normalizzazione che è molto interessante e abbiamo anche un altro effetto molto simpatico e molto utile che è il compressore a valvole che è molto utile per simulare i vecchi compressori a valvole appunto che erano disponibili quando si lavorava ancora tutto in analogico non mi dilungo troppo anche perché questi sono effetti che vanno provati e soprattutto vanno utilizzati con un po di background teorico alle spalle per capire bene cosa significa comprimere e cosa significa espandere cosa significa limitare e come lavora il gate noi stiamo imparando a utilizzare audition quindi qualcosina sicuramente diremo e abbiamo anche in parte già detto però se volete approfondire questi argomenti io vi mando e vi rimando a qualche corso dedicato proprio alla fonia per il momento mi fermo nel prossimo tutorial parleremo di un'altra categoria di effetti molto utili i riverberi e gli echi molto utili se vogliamo ritardare il nostro suono per ottenere degli effetti molto interessanti al prossimo video tutorial grazie